Ciao ragazzi, buongiorno a tutti! Come state? Tutto bene? So che sono mancata per un po' di tempo, purtroppo abbiamo avuto qualche problemino logistico qualche cliente mi ha detto, Desi ma tutto bene? Non ti ho visto? Non ti ho sentito? No, ma ragazzi, sono sempre stata qui, semplicemente sono mancata un pochettino sui social però sono tornata, più carica che mai, per raccontarvi di una novità Eccola a voi ragazzi, Pantadren Salino è un trattamento intensivo a base di alghe guam contro la cellulite e ha una fortissima azione drenante grazie all'alto contenuto di sali marini del mar morto Come funziona questo Pantadren? Semplicissimo, all'interno della confezione noi troviamo una busta con all'interno il Pantadren, lo indossiamo e poi all'interno avremo anche una seconda guaina protettiva effetto sauna che servirà per non sporcarci e quindi muoverci comodamente Una volta inserito la guaina e il pantaloncino, ovviamente lo teniamo per 30 o 40 minuti, ma se vogliamo possiamo tenerlo anche di più Una volta concluso il tempo di posa, cosa facciamo? Rimuoviamo la guaina, quella effetto sauna rimuoviamo il Pantadren e massaggiamo tutte le zone che sono state a contatto con il Pantadren Salino questo per far assorbire ancora meglio i principi attivi Una volta fatto questo, laviamo il nostro Pantadren semplicemente con sapone di marsiglia e lo riponiamo all'interno della nostra confezione originale La confezione comprende tre trattamenti Una volta terminata, potete acquistare separatamente il liquido di ricarica Come funziona? Semplicissimo Inserite il liquido di ricarica all'interno del Pantadren Il Pantadren va inserito a sua volta all'interno della sua confezione originale Chiudete bene con la zip in modo tale che viene impregnato dei suoi principi attivi quindi lo lasciate un pochettino il tempo che si attiva e dopo di che può essere riutilizzato tranquillamente per i successivi trattamenti Grazie!